Carissimi ben trovati è terminato da poco l'anno scolastico e già siamo operativi per organizzare le prossime attività per l'anno 2020 e 2021 pensando a voi. La nostra scuola vuole offrire come sempre un ambiente sereno e sicuro in tutti i sensi. La nostra struttura è molto ampia, gli spazi sono ben organizzati, per questo porremo attenzione a tutte le precauzioni che sono richieste dalla normativa per poter iniziare un nuovo anno scolastico in un ambiente accogliente e che possa svolgere una didattica ordinaria. Per noi la scuola non si è fermata, lo sapete, quindi a settembre non possiamo dire si ricomincia ma proseguiamo un percorso dopo le vacanze scolastiche per continuare il nostro cammino insieme. Vogliamo fare scuola per adempiere a un servizio a favore di ragazzi e famiglie che desiderano condividere un progetto educativo e formativo con noi. Vogliamo fare scuola perché il nostro carisma di erogazionisti è attento alla crescita umana e spirituale di ogni persona. Vogliamo fare scuola perché insieme a voi nel nostro presente vogliamo costruire quello che è il futuro di tutti noi. Per il prossimo anno scolastico noi siamo ancora qui con lo stesso entusiasmo di sempre. Vi aspettiamo!